eccoci qua buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento di oggi linee prodotto e novità clay packing vi presenteremo un po tutti i prodotti nuovi ritroveremo dei prodotti già presentati l'idea è quella di darvi un po una panoramica di le varie funzionalità prodotto abbiamo pensato di fare una modalità un po più interattiva quindi non statica ma cercando di farvi vedere anche qualche prodotto è ovvio che via telecamera la luce si vedrà come si potrà ma lo scopo insomma è quello di darvi una un infarinato su tutti i prodotti mi presento sono mattia fasolo produce specialist audio 6 e se avete bisogno poi di informazioni maggiori contattateci che saremo disponibili a darvi qualsiasi info del caso ci troviamo nella showroom audio 6 questa è casa nostra quindi benvenuti in questa modalità interattiva e io direi di partire subito con con i nostri prodotti e vi presenteremo la tutta la linea wash le linee button le linee bar e vi presenteremo anche dei spot profile con le ultime con le ultime novità e chiedo alla regia di girarmi la camera che iniziamo a guardare cosa abbiamo cosa abbiamo qua oggi abbiamo la b family ovvero mini b e midi b midi ultimo ingresso in casa clay parking parleremo anche del mini b parle d'acqua per dare un accenno anche su una fixture statica ip 66 vedremo i top di gamma anche del della serie wash la serie k e vedremo le differenze tra engine rgb white e tecnologia hcr proprietaria di clay party partirei subito con la prima slide del del nostro del nostro prodotto mini b mini b mini b un prodotto che già conosciamo già conosciamo da da un annetto e è un wash b ma led compatto molto leggero e versatile è un sette sette led per 40 watt e osram e pesa veramente poco perché una feature da sei chili e mezzo e molto molto veloce e può essere utilizzato sia da wash ma anche da fx da effettistica come bim chiedo scusa vedo che c'è un errore 19 per quanto è un sette per per 40 a uno zoom molto molto generoso 4 gradi a 55 e ha il controllo del pixel centrale separato quindi si può utilizzare tutti i sette led oppure il rig esterno o il pixel centrale e ha il canale di cto oltre la rgb white per il controllo della temperatura da 2 5 8 mila e ha il dimmer 16 bit con quattro curve quindi c'è la possibilità di decidere anche che tipo di dimmerata applicare appunto al faro e ha un effetto troposcopico elettronico molto molto rapido che arriva fino a 25 frame al secondo a bordo troviamo l'rj 45 per l'accesso ethernet arnet scn e gli xlr a 5 poli per il dmx elettrico protocolli rdm web server e arnet con varie possibilità di canali di canali di mx e torniamo su sui nostri fari ve lo faccio ve lo faccio vedere anche se come dire non è la prerogativa di questa mattina fare una dimostrazione luminosa perché via telecamera insomma sappiamo che non si può apprezzare la qualità di questi prodotti in questo momento qua sta andando il white del mini b come vi ho accennato prima c'è la possibilità appunto di controllare il singolo pixel non è un prodotto pixel mapping tutta la famiglia b family non gestisce pixel mapping ma avendo la possibilità quantomeno di due livelli differenti di controllo ci dà la possibilità di avere comunque una un'effettistica da poter creare andrei avanti con la slider successiva il mini b esiste anche la versione mini b parled acqua cos'è il mini di parled acqua è fondamentalmente la stessa identica fixture montata però su parled quindi non ha la forcella la yoke pan e tilt ma alle staffe per l'installazione fissa o l'appoggio quindi è esattamente stesse identiche caratteristiche del mini b non nomi di lungo perché l'abbiamo dette prima la ip 65 quindi assolutamente in grado di lavorare outdoor con pioggia e quant'altro e ottimo prodotto quindi qualità clay park saturazione dei colori di tutti del classica di tutta la famiglia di family e k di clay park anche su questa fixture piccolina dotata comunque di zoom motorizzato e di tutte le caratteristiche che può avere il mini b bene passiamo a andiamo avanti passiamo al midi b uno degli ultimi prodotti introdotti appunto da clay park sulla serie wash della b femmini diciannove led per 40 watt andiamo a vedere la nostra scheda diciannove led per 40 watt tutto molto simile al mini b ma sottolineo questa assoluta assoluta assoluto fattore molto molto interessante il mini b si può paragonare al k 15 che è il prodotto figlio del k 25 della della famiglia degli ai di ai di clay park e quindi è come un k 15 semplicemente più semplicemente più semplificato ovvero è stata tolta la possibilità del pixel mapping e non ha il frame di lente frontali ruotabile come il k 25 k 15 questo prodotto nasce da un'esigenza di un utilizzo più semplificato del prodotto perché non tutti ecco utilizzano i motori pixel mapping e quindi facendo così si è riusciti assolutamente ad avere un un ottimo rapporto qualità prezzo su su questo prodotto perché è fondamentalmente come dicevo primo k 15 diciamo in versione semplificata e quindi ha la stessa potenza stessa luminosità della serie top ma racchiusa in un prodotto più semplice assolutamente molto più versatile e possiamo proseguire possiamo proseguire con anzi guardate facciamo un passo indietro vi faccio vedere vi faccio vedere il mi db acceso anche perché come nel mini ho la possibilità di controllare il led centrale nel medio la o un livello in più o un rig in più quindi la possibilità di controllare tre step quindi rig esterno rig centrale e pixel singolo centrale ve lo faccio vedere così possiamo apprezzare appunto questa caratteristica adesso il mi db è in white andiamo con il rig esterno rig centrale e pixel centrale quindi abbiamo tre livelli con la possibilità di creare alcune 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 effettistiche anche senza pixel mappi proseguiamo con i nostri prodotti di punta vi anticipo già subito se avete delle domande sui prodotti avete necessità di sapere qualcosa e avete curiosità scrivete ce le pure in chat che poi alla fine del nostro webinar andremo insomma a rispondere a tutto quello che ci chiedete qua vediamo due prodotti apparentemente molto simili in verità hanno tecnologia di chip led completamente differente e vi parlo del k 25 famiglia ibi k 25 successore degli aleda dei famosissimi rinomati aleda k 10 k 20 fixture che può essere simile in verità è stata molto aggiornata molto aggiornata e molto potenziata parliamo di guardiamo la scheda la scheda prodotto parliamo di una macchina con 37 led a 40 watt rgb white led osram quindi un prodotto assolutamente molto performante e molto luminoso ha varie modalità di funzionamento watch bim fx perché la serie k ibi a tutto il processamento dell'engine pixel mapping e quindi ci dà la possibilità infinita di creare effetti di qualsiasi tipo zoom motorizzato 4 60 gradi quindi un zoom assolutamente molto molto generoso e in funzionalità bim risulta essere un bim comunque un fascio molto stretto controllo individuale di ogni led come abbiamo abbiamo detto in pixel mapping e la peculiarità della famiglia k è la rotazione del frame delle lenti di ogni singolo pixel che crea questo effetto calidoscopio dopo vi faccio anche ve lo faccio anche vedere una piccola simulazione abbiamo il canale sito con la nostra correzione della temperatura colore da 2005 8 mila e abbiamo anche le emulazioni appunto di lampada a tungsteno allogena e segnali di controllo abbiamo a bordo sempre di mx elettrico 512 canali rdm web server a e arnet ha già incluso e questa è una assoluta novità molto interessante protocollo arcaos cling net questo perché la macchina può essere utilizzata e peciata nella vostra console in due sezioni cioè la modalità basic dove io vado a controllare la fixture come panty piuttosto che lo zoom piuttosto che tutti i parametri diciamo di movimentazione della macchina posso peciarmi una seconda macchina con l'engine pixel e gestire la parte di pixel mapping con un secondo motore che può essere sia la console che può essere un media server esterno o può essere un prodotto visual o come meglio credete controllare la parte di engine pixel questo è molto interessante perché così si va a dividere l'utilizzo gravoso se spesso di macchine di console per l'utilizzo di pixel mapping e va a semplificare assolutamente la gestione pixel e questo è un grande upgrade questa cosa la troveremo anche su altri prodotti ecco è un prodotto possiamo pure tornare sul prodotto è un prodotto sicuramente importante ve lo faccio vedere anche qui eccolo qua attualmente abbiamo il nostro white a full vi faccio vedere quello che vi parlavo prima sulla rotazione del frame delle lenti e la gestione pixel mapping come potete notare avete veramente tantissime possibilità di utilizzo attualmente questo è uno shape già all'interno della macchina che è stato mandato appunto in in output anche perché dico questo perché la macchina la possibilità di essere usata anche in shape mod ovvero ha già tutta una serie di pattern all'interno dove se decido di non utilizzare appunto un motore pixel mapping esterno elaborato ho la possibilità in modo semplice di utilizzare quello che ha già all'interno la macchina appunto in shape mod potete capire quanta cosa si può fare appunto con con questi prodotti e benissimo andiamo avanti con con un'altra serie di prodotti e vi facciamo vedere prima di passare alla tecnologia hcr la tambora batten questa è l'assoluta novità pubblicata tra le cose da clip a chi da da poche settimane parliamo circa di un paio di settimane e ultima barra di casa clip a chi molto 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 interessante barra motorizzata andiamo a vedere un attimo la scheda della della nostra barra barra motorizzata 16 led da 40 watt rgb white osram il led è identico alla serie k la serie ibi k 25 al k 15 ovviamente ed è uguale è sempre lo stesso led anche per tutta la b family quindi mini b mini b e mini b per le d'acqua questo che cosa vuol dire è un plus assolutamente molto interessante perché c'è coerenza di colore di output di saturazione e di frequenza e colore tra i vari prodotti se io devo fare un allestimento una produzione voglio avere coerenza di colori di saturazioni usando prodotti di famiglie completamente diverse e di grandezze dimensioni diverse ma usando tutto clip a chi ho la possibilità di avere assoluta coerenza su i vari colori e questo sicuramente è una cosa molto interessante a un uno zoom anche qui 450 gradi molto importante vi segnalo che le lenti montate sopra alla tambora batten sono allestite con due possibilità la tambora round o la tambora square differenza la tambora round monta una lente rotonda mentre la square è un'ottica quadrata la differenza tra i due utilizzi è che con la square avrò la possibilità di avere un bim molto più definito più stretto e anche l'interazione tra led e led nella stessa barra risulta essere più squadrato e più preciso mentre la round va utilizzata nel momento in cui voglio avere un prodotto un po più morbido comunque chiuso a 40 gradi è una lama assolutamente di luce ma mi dà la possibilità di gestire un po più di morbidezza anche in battuta di luce nel momento in cui vado a zoomare mi risulta essere molto più morbido ed essere paragonabile quasi a wash addirittura e la cosa molto molto interessante della della tambora è anche questa il movimento tilt parliamo di oltre duecento e venti gradi cosa vuol dire questo vuol dire che la mia barra non va a tiltarsi orizzontalmente e basta ma riesce ad andare ancora più giù rispetto alla sua al suo orientamento orizzontale e questo mi dà la possibilità di utilizzarlo in situazioni più interessanti faccio un esempio per tutti metto una mia linea di tambora button costituita da 18 20 pezzi sul fronte palco voglio utilizzarla con come effettistica ed eventualmente anche come rinforzo frontale per il performer e la barra sarà in grado la tambora di tiltare anche sotto il livello del palco riuscirà a scendere e riuscirà a scendere di parecchi gradi e quindi riuscirò a lavorare anche quando avrò palchi magari di altezze importanti immaginiamo un palco alto due metri un palco layer multidirezionale alto due metri con la barra riesco a scendere ad arrivare appunto dove desidero arrivare anche sul pubblico e non solo come effettistica orizzontale sul palco un'altra cosa assolutamente interessante della tambora è la gestione dei pixel anche qui abbiamo dmx 512 canali e rdm web server arnet e arcaus king king net incluso nel firmware ma va la pena spendere un minuto e torniamo pure sulla sulla nostra barra sull'utilizzo e come cos'è stato introdotto di nuovo sulla gestione del pixel mapping mentre tutta la serie ai b i k 20 k quindi k 25 e k 15 gestisce il pixel mapping in due livelli background e foreground ovvero ho un livello che mi sta dietro in background è un livello foreground che ho davanti e quindi vado a giocare a seconda di quello che io vado a mettere sul fondo o sullo shape che vado a mettere davanti o la gestione del singolo led che metto davanti quindi io avrò il foreground che vince come priorità sul background della della macchina sulla tamborra è stato cambiato questo concetto di utilizzo in pixel mapping non ha più il background foreground ma gestisce fino a tre layer introduciamo il concetto di layer quindi la nostra tamborra risulta ragionare come un media server inizia a essere più simile sul sul lavoro di media server cosa sono questi tre layer i layer i primi due layer lavorano con discorso di priorità quindi se avrò il primo layer di una della mia barra ve lo faccio vedere che è più facile da capire se io vado a proviamo a farla partire adesso la mia barra in white ecco qua ho il mio classico mio classico shape movimento di la barra rossa e ho il mio pallino blu che mi scorre nella barra e avrò il primo layer che è rosso e ce l'ho dietro diciamo il secondo layer che è il nostro shape blu che va a muoversi sulla barra che è in priorità ovvero è davanti al layer 1 che cosa vuol dire nel momento in cui io vado a dire layer 2 tolgo il colore blu e lo lascio per esempio nero cioè non ho nessun output il mio effetto continuerà ad andare semplicemente che avrò il pixel nero perché il layer 2 è in priorità rispetto al layer 1 e questo è molto interessante perché riesco andare a creare tutta una serie di effettistica diversa che con gli ibi in background foreground prima non riuscivo a fare layer 3 serve e questo è stato introdotto per andare a gestire un layer di utilizzo di pixel mapping esterno stessa cosa vale per la serie k vado a patcharmi un engine basic della macchina sulla mia console la gestione pixel mapping la vado a affidare a un media server esterno un controller esterno e questa cosa qua la vado a gestire con il terzo layer quindi ho primo layer secondo layer di priorità e il terzo layer che va per a prendersi esternamente un motore pixel mapping e posso decidere di merarlo shutterarlo quant'altro quindi sicuramente molto molto interessante perché intanto con pochi canali dmx della barra riesco a gestire la fixture e riesco a gestire i primi due layer con un motore esterno vado a gestirmi tutto il resto dei canali dell'engine pixel quindi sicuramente un prodotto che per il high designer è molto molto interessante va ad aprire nuove tipologie di utilizzo sicuramente nuovi orizzonti per quanto riguarda il pixel mapping e fixture che qualità assolutamente che i pacchi coerente con gli altri prodotti è molto interessante perché ci si può veramente giocare giocare all'interno e vi ho detto due cose sulla tambora ci sarebbe tante cose da dire eventualmente contattateci scriveteci chiedeteci di parlare con noi e magari vi daremo qualche informazione in più ovviamente oggi abbiamo tante cose da farvi vedere non possiamo sviscerare tutto quanto dei prodotti per attenzione perché la tambora secondo noi è un prodotto molto 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 interessante bene conclusa la parte di engine rgb white prima di passare a i prodotti che i k 20 hcr e la barra cyclo rama di adb la clementis vi faccio una piccola introduzione sulla tecnologia hcr di di cleipaki perché cerchiamo di capire che cos'è per poi andare ad apprezzare il nostro prodotto andiamo pure sulla 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 nostra scheda e tecnologia hcr hcr ai color rendering tecnologia hcr è un tecnologia proprietaria di cleipaki in collaborazione con osram andiamo a vedere che cos'è hcr la tec questa tecnologia offre la possibilità di avere una qualità e prestazione di luce assolutamente superiore rispetto al rispetto all'rgb white e perché va a i colori che noi abbiamo nel nostro engine vanno a completare uno spettro di frequenza che adesso andiamo a vedere nel dettaglio che con un engine rgb white non era possibile completare tutto quanto e altro concetto che vi introduco al cri ovvero il color render index cioè la resa cromatica della nostra luce più alto è il cri di di un nostro output luminoso e più andiamo avvicinarci a una luce naturale a uno spettro coperto cromatico di luce solare ok quindi che cosa vuol dire che più ho lo spettro cromatico completo e più avrò una copertura completa delle nostre frequenze colore clipaki insieme ad osram che cosa hanno fatto hanno si sono dedicati nella generalizzazione di un modulo led non rgb white mad rgb ambra ciano e lime hanno introdotto questi tre queste tre cromie perché abbiamo introdotto proprio queste tre cromie e la risposta intrinsecamente l'ho data un po prima nella spiegazione dell'hcr ma andiamo a vederlo un po più nel dettaglio qua abbiamo tre tre grafici spettrometrici che ci dicono il comportamento cromatico dello nostro spettro di luce sulla sinistra vedete lo spettro di luce solare del giorno durante il giorno circa sui 5.006 gradi kelvin vedete com'è tutta completa la fascia cromatica partendo dai blu arrivando ai rossi com'è il led normalmente a differenza rispetto di una luce per esempio allogena lo spettro del led a 5 e 6 per esempio è il classico spettro che fa come dire risaltare le problematiche del led ovvero abbiamo una punta cromatica importante sui blu sui blu azzurri e questo fa sì che la luce sia brillante del led ci dà quel quel tono di brillantezza quella tono di azzurro che vediamo normalmente nel led è molto scarico diciano ha poca copertura nei verdi e quando andiamo ad ascaldarci quindi nell'ambra e nel rosso perdiamo completamente tutte le nostre frequenze cosa ha fatto claypaki ha fatto esattamente quello che serviva per coprire lo spettro ovvero abbiamo introdotto il ciano che va aumentare la copertura cromatica del ciano il lime e l'ambra vedete nell'immagine sotto lo spettro di luce hcr questa cosa qua ci permette di avere un controllo colore perfetto se noi torniamo su i nostri prodotti vi accendo il nostro il nostro k20 non so se si può apprezzare ma direi che non si vede più tanto sul video il bianco che noi abbiamo qua rispetto al k25 che è un rgb white è un bianco composto da la esacromia della tecnologia hcr mentre nel k25 il white era composto dal led white ok di natura sua quindi il k20 è un prodotto vi faccio vedere anche qua non si riesce tantissimo apprezzare ma ve lo faccio vedere guardate in questo alciano del k20 abbiamo il lime abbiamo l'ambra abbiamo quelle cromie che sono molto molto più precise personalmente per esempio io sono molto affascinato da questa da questa da questa frequenza di ciano perché è molto 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 bella è difficile da ottenere in tecnologia rgb white qual è il cambio di applicazione dei prodotti hcr perché il prodotto hcr va capito correttamente va applicato correttamente il campo di applicazione dei prodotti hcr sono quei campi di applicazione dove serve che ci sia tutto l'ospetto cromatico esempio e broadcast televisioni streaming gli occhi delle telecamere i sensori delle telecamere sono molto sensibili all'ospetto cromatico e quindi solo in tecnologia hcr riuscirò a ottenere la resa cromatica che io vorrò fare in una situazione broadcast un direttore della fotografia che vuole avere un colore preciso su delle frequenze precise in scena sarà molto difficile farlo con un rgb white mentre con hcr ho l'assoluto controllo attenzione noi abbiamo che pacchi è piena di clienti che usano l'rgb white in broadcast nei teatri quant'altro ma con l'hcr abbiamo questo plus in più il teatro il teatro quanto è difficile e introdurre l'rgb white in teatro viene assolutamente accettato ma è sempre difficile trovare dei compromessi di perfezione colore l'hcr è il prodotto che fa per noi per essere corretti assolutamente in linea però con quanto detto vi dobbiamo fare una precisazione ovviamente la tecnologia hcr ha un plus assoluto di definizione colore ovviamente però ci subisce un importante calo di output parliamo di un 20 30 per cento di output in meno perché è molto semplice mentre nell'rgb white un mio modulo led è formato da quattro chip e quindi ho una dimensione fisica di un chip che può erogare una certa potenza luminosa nella hcr il modulo è diviso in sei chip e quindi chip led che sono all'interno del modulo sono più piccoli sono più piccolini proprio fisicamente e quindi riescono a erogare meno output luminoso questa è una scelta una scelta su o avere una maggiore definizione colore o avere più output con dei led da 40 watt vi facciamo vedere la scheda della della nostra del nostro cappa 20 facciamo un passo indietro eccolo qua quello quindi che vi ho detto ha riassunto qua modulo led sei colori 37 moduli vita media non l'abbiamo detto nei prodotti precedenti lo diciamo adesso parliamo di 50 mila ore di vita media degli engine questo vale un po per tutti i prodotti a led della della serie wash di clay paki sia rai molto 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 alto 97 maggiore di 97 vuol dire che abbiamo quasi completa copertura copertura cromatica e correzione temperatura e quant'altro e controlli il controllo della modalità di del led dei colori e si introducono varie varie modalità la modalità row che vuol dire controllo il singolo engine led ogni singolo colore dei pixel prodotto che non è pixel mapping la serie hcr ecco precisiamo hsl assolutamente usa di usaturation è importante l'utilizzo dell'usaturation con questo tipo di prodotti perché vado nel mio spettro di frequenza scegliermi la frequenza e dagli la saturazione nel modo corretto per poterlo utilizzare al meglio e poi abbiamo le emulazioni di rgb o ciano magenta giallo zoom 7 53 e poi tutte le varie caratteristiche appunto della serie wash ripeto non è pixel mapping quindi pochi canali 19 o 32 canali e andiamo a vedere l'ultimo prodotto hcr vi facciamo vedere prima la scheda però eccola qua la clemantis che è un prodotto già noto di clay paki uscito in tecnologia hcr è uscita adesso anche la versione in rgb white prima di farvela vedere vi do due info al volo sono 16 led rgb white osram e monta delle lenti di fabbrica monta delle lenti asimmetriche delle lenti progettate ad hoc con un progetto proprietario per questo tipo di barra lenti asimmetriche dove possono andare posso andare a coprire la mia superficie di illuminazione da pochi gradi sotto la barra a molti gradi sopra queste barre sono assolutamente concepite per illuminazioni cyclo rama fondali e quant'altro non è come la tambora che è una barra fx è una barra dedicata per colori omogenei e pareti e fondali troviamo tra le altre cose in questa barra la correzione di tonalità più o meno green e magenta questo lo troviamo anche nel capa venti in tecnologia hcr per andare a fare quella correzione di verde o di magenta che spesso nel broadcast è necessario nella fotografia andare a correggere appunto questi due questi due parametri anche qui vari tipi di controllo vari tipi di dmx rdm web server arnet e quant'altro quindi tutto quanto assolutamente completo ve la facciamo vedere accesa anche qui non è non si riesce apprezzarla benissimo ma noi comunque ve la facciamo vedere eccola qua la vedete spenta a terra vado a mettere un white magari vado a mettere un red così si percepisce un pelino di più vediamo come è assolutamente omogenea il nostro fascio stiamo simulando per esempio un cyclo rama se noi andiamo a vedere quanta omogeneità c'è e poca decadenza nel in altezza questo vi fa capire quanto la lente asimmetrica lavori nel modo corretto parliamo qua adesso in showroom da noi parliamo di un'altezza indicativamente di sei metri la clemantis è in grado di arrivare tranquillamente con una linea una batteria di prodotti fino a sette metri di omogeneità dai cinque e sette metri classico ciclo rama in teatro linea di barre sopra linea di barre sotto abbiamo la perfezione di luminosità andando ad altezze anche sicuramente sicuramente molto superiore bene concludiamo la nostra sezione wash e barre possiamo anche qui ripeto se vi vengono delle domande andate a scrivere in chat tutte le vostre curiosità adesso andiamo e passiamo nella sezione di tutti i prodotti delle novità delle ultime novità dei prodotti eh spot BIM prima però facciamo un accenno eh al nostro stilos che è un prodotto già fuori da eh da ormai un annetto e mezzo ma è corretto ehm ci teniamo in qualche modo eh spiegarvelo perché è un prodotto eh di assoluto interesse e di innovazione andiamo a vedere la nostra la nostra la nostra scheda l'immagine che vi stiamo facendo vedere sono eh eh gli stilos posizionati nell'installazione del giova beach party dell'evento del giova beach party di Linate eh se non sbaglio del duemiladiciannove se non vorrei dire eh non vorrei confondermi come potete vedere eh lo stilos è un prodotto molto molto performante eh è il primo prodotto worldwide il primo BIM worldwide con engine laser eh di eh visualizzabile assolutamente da eh centinaia e centinaia di metri di distanza se non da chilometri sono state fatte varie installazioni eh viste assolutamente a eh in grossa in grossa distanza andiamo a vedere la 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 scheda del nostro prodotto eh appunto ripeto è diciamo la 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 fixture sicuramente più dinamica e più innovativa del del mercato ha un motore laser eh proprietario eh di Clepachi Osram quindi inventato e brevettato eh appunto dall'azienda ha un engine con una lunga durata parliamo comunque di ventimila ore eh parliamo di BIM quindi BIM con fasci solidi senza hotspot belli saturi colori assolutamente eh eh pieni cari carichi e straordinari in quanto parliamo di laser quindi il nostro RGB il nostro rosso verde blu sicuramente eh molto 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 performanti fascio di luce da uno a sette gradi quindi è un BIM puro eh fino a zero cinque se utilizziamo poi i BIM riduttori come il gobo riduttori e abbiamo tutta una serie di effettistica a bordo due ruote gobo eh sia rotante che eh gobo statici una ruota con tre prismi quindi lineare l'otto facce il sedici facce che è sicuramente anche qua un'innovazione e in più un filtro Frost eh dedicato il prisma come accennavo sedici facce è su un canale dedicato che è sovrapponibile poi agli altri tipi di prismi e qua ci dà la possibilità di fare molti molti effetti fixtura assolutamente velocissima sia in rotazione gobo in movimentazione in pan tilt molto 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 veloce perché è fatta proprio per ehm essere usata come come effects altra cosa che ci tengo a farvi notare è ehm è la il dimming questo è un prodotto che ha una precisione di dimming a ventiquattro bit a ventiquattro bit ha una risoluzione di gestione del dimming molto molto precisa e quindi è una fixture è una fixture che può essere utilizzata anche in situazioni dove devo fare dei fade delle dimmerate che richiedono una precisione sicuramente molto importante e ve lo facciamo vedere ve lo facciamo vedere acceso in modo molto semplice appunto qua adesso come abbiamo detto fino adesso non li facciamo vedere accesi ma più che altro più per un discorso di operatività non si può apprezzare ovviamente il BIM ma eh è un prodotto eccezionale eh ha una resa sicuramente molto 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 eh performante guardiamo la scheda prodotto del reflection è un prodotto eh diciamo che va un po' a pari passo della nella famiglia degli stilos eh è un eh che ha introdotto questo prodotto che è uno specchio mobile eh con movimento tilt infinito quindi eh continuo questo prodotto qua può svizzarrire la creatività dei live designer che vogliono in qualche modo andare a cercare tutta una serie di effettistiche con vari prodotti riflessi su uno specchio provate a immaginare abbiamo il nostro stilo abbiamo qualche altro prodotto che può essere un un BIM piuttosto che un prodotto che ci stia all'interno del fascio del del dello specchio vado a fare varie posizioni varie position varie movimentazioni top eh prodotti fixture top specchi reflection capite anche voi quanto posso inventare e quanto posso andare a a a produrre di ehm di disegni luce e quant'altro quindi questo è un'accoppiata che sicuramente di prodotti fa sbizzarrire la la creatività de degli operatori della designer ecco e prodotto che io lo abbi noi lo abbiniamo allo stilo insomma ripeto può essere usato assolutamente eh con tutti se vi ricordate magari l'i designer che hanno qualche annetto in più le tecnologie di specchi si venivano usate tantissimo in passato eh gli anni novanta gli anni duemila quando parliamo eh di tutti i sistemi dei dei laser dei degli scanner quindi come dire è una ripresa di un prodotto che ha dato sempre grandi soddisfazioni in passato e quindi eh soprattutto con prodotti come stilos può essere assolutamente molto eh molto valorizzato torniamo sui nostri prodotti passiamo su eh un'altra novità eh che è già fuori da qualche mese di eh di Clepaki che è eh il nostro eh Sharpie Plus acqua Sharpie Plus è un prodotto che conosciamo molto bene che è già nel mercato da diverso tempo eh che è un prodotto che è un prodotto che è un prodotto che è un ibrido vero eh spot beam dandogli l'ip 66 ho la possibilità di utilizzarlo all'aperto eh outdoor con eh acqua o quant'altro quindi mi toglie qualsiasi tipo di ehm assoluta preoccupazione della copertura di questi prodotti e Sharpie Plus acqua vengono anche utilizzati in installazioni magari permanenti di periodi che possono essere tipo non so un festival un festival che può durare per esempio eh una settimana oppure festival grossi che possono durare anche magari più di eh di di la classica settimana di festival pensate che grande plus che può avere un Sharpie Plus acqua messo fuori non ci penso più e eh eh mi toglie qualsiasi tipo di problematica di questo tipo qua vediamo rapidamente la sua scheda eh prodotto e è assolutamente interessante sapere che eh Sharpie Plus acqua è eh performante tanto quanto lo Sharpie Plus normale e questo è molto molto interessante perché normalmente a volte i produttori possono andare a perdere un po' di output ovviamente per il tipo di ehm copertura eh di eh di di scocche e quant'altro Sharpie Plus acqua invece abbiamo eh coerenza con eh con il prodotto Sharpie Plus non mi dilungo sul lo Sharpie Plus acqua perché è un prodotto che non è una novità lo conosciamo lo conosciamo bene lo Sharpie Plus ecco quindi è la stessa identica fixture ma eh il P66 zoom lineare tra i trentasei gradi eh evanescenze ciano magenta giallo ruota colori filtri disco animazione di schiro tanti gob e quant'altro prisma quattro facce prisma otto facce e tutte le eh sue caratteristiche il Sharpie Plus è molto interessante perché è un ibrido vero con poi la modalità di utilizzo spot e beam andiamo addirittura poi a eh in modalità beam togliere i filtro fly high che è presente davanti alla lampada e eh con zoom stretto risulta ad essere un vero beam un beam puro quindi con hotspot centrale e eh tanto output tanto output di eh distanza andiamo avanti con il prossimo prodotto e il prossimo il prossimo prodotto che vi presento è eh l'AXCORE 600 profile in versione teatro anche questo da poco uscito su casa Claypachi faccio una precisazione il K25 che abbiamo visto prima eh l'abbiamo presentato non tanto quanto per la novità del K25 che è già fuori da un po' ma perché è la versione teatro e qua spiego i prodotti eh teatro di Claypachi. AXCORE 600 profile andiamo a vedere andiamo a vedere la scheda prodotto che conosciamo già eh da tempo eh anche qua non mi dilungo tantissimo perché vi voglio spiegare il teatro e engine led da 500 watt zoom lineare da 5 e 47 eh ciano magenta giallo cito una ruota gobo ruota colori prisma disco animazione sistema di framing su quattro piani focali plus incredibile secondo me dei profile eh Claypachi perché con una lama sola sono in grado di chiudere tutto l'output invece che solo metà come per esempio la scelta fatti da da altri produttori e Frost, Iride e quant'altro non mi dilungo sulle caratteristiche del 600 profile torniamo sul prodotto eh spendo una parola sulla tecnologia teatro di questi prodotti quindi profile e K25. Claypachi ha introdotto un sistema innovativo di controllo di ventilazione forzata e di alimentazione sulla serie teatro quindi K25 e 600 profile dove eh è in grado di andare ad adattare la rumorosità del prodotto eh a seconda della dell'ambiente di installazione vi faccio un esempio se noi andiamo a montare i 600 teatro all'interno per esempio di un teatro avrò necessità di avere un faro silenzioso questo è un altro problema dei direttori tecnici dei teatri che non non eh non si riescono a introdurre eh proiettori come teste mobili proprio per la rumorosità 600 teatro e K25 teatro sono silenziosissimi andiamo sotto i 38 db di rumorosità e è molto importante capire come eh lavora ovviamente se ho temperature eh che mi permettono di andare a affedare correttamente i nostri eh proiettori anche con una rotazione di ventole più lenta automaticamente le nostre fixture andranno a rendersi molto più silenziose appunto andando a gestirsi andando a gestirsi alimentazione e eh fan è ovvio che se noi siamo a fine luglio con 40 gradi di sole mettiamo eh sotto graticcia una tras con eh sei prodotti otto prodotti e ci sono 40 gradi eh ovviamente il la fixture andrà a lavorare eh in sicurezza e quindi andrà ad aumentare la velocità delle ventole per il raffreddamento corretto del del prodotto noi abbiamo fatto varie prove in varie situazioni e vi dobbiamo dire che sono molto performanti dal punto di vista del rumore e si introducono questi prodotti si introduce un nuovo scenario di utilizzo ehm coerente sul sul teatro abbiamo avuto la possibilità di fare dei test di eh fare delle comparazioni e quant'altro eh in particolare su Axco 600 vi eh segnaliamo un paio di cose eh ha una gestione di dimming assolutamente eh importante anche qui parliamo di 24 bit di definizione dimming perché ci tengo a dire questa cosa qua se noi vogliamo lavorare con un prodotto in teatro dobbiamo andare a lavorare con dei prodotti molto precisi immaginiamo di fare un eh fade in della dimmerata eh a un venti per cento in dieci secondi io voglio che il mio prodotto vada a comportarsi con una curva dimmer assolutamente lineare assolutamente senza scalini o senza eh step eh di eh dimmerata Axco 600 profale teatro da questo punto di vista qua è eccezionale due versioni versione standard versione HC con il filtro ICRI abbassa la temperatura colore del led da 6500 e passiamo a 5600 ma alziamo esponenzialmente sopra i 95 il indice cromatico di resa cromatica cioè il ICRI ultimo prodotto che vi presentiamo e poi magari diamo spazio a un paio di domande se qualcuno ha qualche curiosità è ultimissimo ultimo 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 prodotto nato da eh famiglia Clepachi che è Arolla Profile HP ve lo accendo prodotto molto interessante e rivoluzionario sulla fascia degli spot profile è un prodotto eh è un prodotto profile come abbiamo detto prima attenzione perché parliamo di un engine da 1200 watt a led unico prodotto worldwide con un engine da 1200 watt questo è uno dei vantaggi di avere Osram eh come produttore di led e proprietario di Clepachi e quindi abbiamo l'esclusiva di Osram di 1200 watt a led di engine non ci sono altri prodotti nel mercato che montino un un led eh un engine led di questa potenza e Arolla Profile HP è un prodotto molto completo andiamo a vedere andiamo a vedere la scheda la scheda del prodotto eh zoom cinque eh cinquanta gradi sistema colori eh le vanescenze ciano magenta giallo sito lineare ruota sei colori con anche all'interno un filtro HC ICRI dedicato sei gobo rotanti ruota con sei gobo rotanti ruota con sette gobo fissi HD quindi assolutamente di precisione troviamo il disco animazione eh tipico di Clepachi troviamo prisma quattro facce iris sedici lame e anche qui troviamo i nostri eh il nostro frame eh di sagomazione eh di sagomazione su quattro piani focali faccio una precisazione sui quattro piani focali perché potrebbe nascere un dubbio ok va bene abbiamo il plus che la il nostro coltello va a chiudere un solo coltello completamente tutto l'output del del nostro proiettore però visto che va a chiudere tutto l'output ho quattro piani diversi giustamente perché ogni lama se deve chiudere tutto l'output deve avere lo spazio per eh chiuderlo completamente e quindi risulterà risulterà che le lame sono disposte su quattro effettivi piani focali avrò qualche millimetro di distanza tra una lama e un'altra di conseguenza nel momento in cui vado a mettere a fuoco una sagomazione su tutte e quattro i piani focali risulterà eh eh una lama in perfetto fuoco la seconda lama in quasi perfetto fuoco la terza la terza la terza lama e la quarta dove va trovato il compromesso eh focale attenzione questo non è che è così sui profilatori sui profilatori eh e così su tutti i profilatori di tutti i brand costruttrici ecco ovviamente i piani focali sono differenti sulle lame attenzione uno potrebbe dire è però quattro piani focali a me magari chiudere l'output con una lama non mi interessa preferirei avere più precisione e avere solo due piani focali magari chiudendo due lame nello stesso piano focale che è 90% delle sagomazioni attenzione è vero questa cosa che un due eh un due piani focali sul framing può essere più eh preciso ma eh nella verità non è proprio così se voi avete la possibilità di fare di fare dei delle comparazioni con un prodotto a due piani focali e un prodotto a quattro piani focali andrete eh andrete a sorprendervi quanto i quattro piani focali di Cleipaki siano molto precisi rispetto a vari competitor che hanno due piani focali il compromesso del fuoco sulle quattro lame è visivamente uguale rispetto a un due piani focali vi chiederete perché perché? Perché Cleipaki è stato in grado di creare questi quattro piani focali molto ravvicinati molto precisi che vanno perfettamente a matcharsi con un prodotto che può avere due piani focali questa è una cosa che lo dico perché ho fatto dei test io personalmente e sono rimasto assolutamente eh colpito da questa da questa caratteristica quindi questa è una cosa che ho voluto sottolineare prodotto importante perché ha un peso di quarantaquattro chili ha un bel assorbimento la rolla HP è assolutamente e possiamo ritornare magari sul sul prodotto è un prodotto performante è un prodotto da eh touring nessuno vieta di utilizzare una rolla profile HP sul teatro o su altri tipi di produzione è ovvio che però un engine da 1200 watt richiede una ventilazione forzata di ventilazione è una ventilazione forzata di raffreddamento importante segnalo anche che eh 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 all'interno del function di praticamente tutti i prodotti Cleipaki ma ancora di più in rolla HP c'è la possibilità di fare il derating ovvero io posso andare a eh fare lavorare il mio engine non a 1200 ma a 1000 watt a 800 a 600 e a 400 facendo così abbatto completamente la mia rumorosità se passo anche semplicemente da 1200 a 800 quindi non è che di mezzo completamente l'output eh vado a invece dimezzare se non di più la rumorosità del del nostro prodotto quindi a rolla eh profile HP prodotto magari un po' più adatto per il touring per i festival e le installazioni prodotto molto rock'n'roll grande output grandi colori e quant'altro serie che è Axcore profile 600 un prodotto più dedicato più dedicato per esempio sul teatrale su produzione di broadcast prodotti top di gamma quindi assolutamente eh performanti e assolutamente assolutamente coerenti con tutte le linee direi che a ritorno impostazione centrale direi che vi abbiamo presentato eh tutti tutti quanti prodotti faccio un accenno che vi abbiamo presentato i prodotti faccio un accenno rapido a eh un prodotto che è già stato eh sviluppato che è già uscito di Claypachi che è un controllo smart eh della gestione delle fixture che si chiama eh Claudio io andiamo a vedere la scheda andiamo a vedere la scheda del prodotto Claudio è un tool eh ehm molto interessante che permette ai tecnici eh di service quantomeno ai tecnici del da laboratorio dei rental in fase di manutenzione eh o ehm eh datori luce che vogliono avere sotto controllo tutte le fixture è un tool rivolto a questi operatori di clip a chi è in grado di fare tutta una serie di diagnostica completa negli apparecchi che vengono installati nel network degli apparecchi dove è possibile ricavare tutte le informazioni delle fixture immaginate per esempio due utilizzi una rental che noleggia quindi fa entrare uscire vari prodotti li deve controllare o li controlla manualmente 11 oppure ritira un lotto di 50 proiettori ritirati da un tour va a fare la diagnosi seconda possibilità touring quindi io ho un mio piano luci che molto sempre nello stesso modo una tournée o non lo so 30 40 50 100 fixture voglio avere a colpo d'occhio l'idea il metro di come stanno le mie fixture l'audio è in grado di fare diagnosi su tutto il nostro parco macchine è interessante anche perché rileva le ore di vita della lampada controlla le condizioni se ci sono degli errori delle ventole ferme se c'è qualche problema per esempio su qualche feature di qualche prodotto ed è possibile questa è un'altra cosa molto interessante fare anche gli aggiornamenti firmware in modo semplicissimo con cloud io quindi è sicuramente un prodotto unico nel mercato non ci sono altri prodotti competitor che possano fare questa cosa qua è compatibile con tutte le macchine web esit quindi con tutte le fixture che i pacchi che hanno la gestione di web server è tutto un implementazione all'interno dei firmware vedremo nei prossimi mesi come questa cosa sarà molto completa e anche un po riproattiva nei prodotti magari un po più datati ci sta lavorando che le pacchi in merito a questa cosa qua ultima cosa che vi segnalo del cloud io cloud io se connesso a un gateway quindi se connesso a internet c'è la possibilità di remotarlo e questa è la cosa assolutamente interessante ovvero si va verso la strada dell'assistenza remota sui prodotti installati in un touring per esempio conosciamo tutti nel settore informatico ho un problema su un computer il mio tecnico mi si collega in un computer remoto è una cosa abbastanza simile questa ovvero vado vado a interagire in modo remoto su cloud io collegato alle fixture cloud io è collegato arrivata appunto una domanda specifichiamo che come si collega cloud io alle varie fixture cloud io alle varie fixture si collega tramite cavo cat tramite cavo un cavo lan normalissimo ecco di categoria e quindi va a collegarsi con tutti come dicevo prima con tutta quella serie di prodotti che hanno a bordo la lan che hanno a bordo l'rj 45 e hanno il web server interno e si sta sviluppando e si sta cercando di capire anche come poter andare a implementare questa funzionalità anche appunto con prodotti magari un po' più un po' più vecchia con prodotti già usciti da tempo l'idea di clipaki quella di rendere un prodotto che sia compatibile quasi a tutto l'ecosistema clipaki capite che questa è una cosa di assoluto vantaggio a livello di a livello di tempo e niente se avete qualche domanda qualcosa allora e rispondo a una domanda che ci è arrivato se ci è arrivata se stilos parliamo di laser in quanto il laser è veramente dentro al nostro prodotto oppure se laser nel senso che il fascio è molto stretto ed è molto bim puro no qua parliamo di stilos engine laser è il primo faro bim al mondo che monta un engine rgb laser quindi stiamo parlando di laser vero ecco non stiamo parlando di effetti laser o quant'altro è un engine tra le cose proprietario brevettato da clipaki vi do questa informazione considerate che ci sono voluti tre anni di ingegnerizzazione per portare questo questa engine laser in questo prodotto provate a pensare alle ottiche al lavoro delle ottiche al lavoro di gestione di laser rispetto a un led o una lampada scarica quindi c'è stato un grande grandissimo lavoro di di ingegnerizzazione che ha portato a questo prodotto se pensate che il primo e unico prodotto che esiste laser montato su un bim ha avuto tre anni di ingegnerizzazione pensate quanto clipaki eh quanto la rendita di clipaki è eh avanti e performante da questo punto da questo punto di vista qua allora andiamo a vedere se ci sono altre domande ok c'è arrivata una domanda assolutamente eh assolutamente interessante e corretta può essere pericoloso alla vista ehm il fascio di stilos eh quindi fascio laser di stilos allora la risposta non è sì o no la risposta è come viene utilizzato il il prodotto il prodotto stiamo parlando di eh una classificazione classe uno di laser quindi assolutamente di libero utilizzo è eh come dire pericoloso tanto quanto un bim che passa sulla vista degli occhi o un qualsiasi faro che possa passare sulla vista degli occhi se pensiamo alla rolla profile HP a un engine da 1200 watt vado a stringere il fascio da quattro gradi se devo dire cioè se dobbiamo dire che lo stilos può essere pericoloso perché è un laser passa negli occhi allora è tanto pericoloso quanto una rolla HP a quattro gradi con 1200 watt eh di engine su su led quindi la risposta non è né sì né no dipende come viene utilizzato e come come quando sono usciti popolarmente i bim e ci si faceva delle domande sull'utilizzo del bim eh se potesse in qualche modo a dare fastidio danneggiare sicuramente la vista considerate una cosa preciso un bim che monta lampa da scarica se ehm abbiamo un oggetto posizionato nel punto focale del del bim come può essere un telo da video proiezione un tappeto danza un fondale uno schermo andiamo a fare dei danni quante volte è successo di andare a bucare un telo di video proiezione stilos questo problema non ce l'ha perché nel momento in cui sono a bim sono a fuoco con il bim non ho questa concentrazione che avrebbe con una lampada scarica se vado fuori fuoco vado a completamente usarlo nel modo scorretto è ovvio che avrò un punto focale di cono dove sarà molto caldo e può fare sicuramente dei danni ma dipende tutto dall'utilizzo quindi secondo me possiamo stare molto tranquilli che stilo se è un prodotto che può essere utilizzato su grande pubblico tanto quanto qualsiasi qualsiasi altro prodotto passiamo nella schermata delle domande vediamo se abbiamo ancora qualche curiosità da soddisfare oppure oppure siamo siamo a posto niente direi che siamo arrivati alla conclusione se avete bisogno e qua faccio una piccola precisazione prima di salutarci che abbiamo sforato di un quarto d'ora ma le cose da dire erano veramente tante e se avete curiosità domande se avete un'azienda volete interessarvi sull'acquisto o anche semplicemente l'informazione sui prodotti clip a chi contattateci scriveteci per mail il nostro ufficio commerciale sarà assolutamente a vostra disposizione nel darvi informazioni commerciali dei nostri prodotti indicarvi i costi e darvi sicuramente dei suggerimenti sull'acquisto e vi informiamo inoltre che audio 6 sta implementando negli ultimi negli ultimi periodi anche la progettazione delle vostre installazioni quindi se avete necessità o volete chiedere consiglio ad audio 6 per quanto riguarda alcune installazioni non parliamo di disegni luce sul touring o sul service ma parliamo di installazioni come sistemi integrator fisse o quant'altro permanenti audio 6 da supporto alla progettazione installazioni quindi anche su questa cosa qua contattateci se avete qualsiasi domanda da fare su prodotti clip a chi potete assolutamente contattarci e mandateci me iscriveteci contattateci sui social per telefono siamo disponibili invitiamo tutti gli operatori del settore qualora vogliono approfondire alcune caratteristiche di alcuni prodotti che magari oggi non siamo stati in grado perché ce ne erano molti effettivamente da farvi vedere contattate i nostri agenti di zona di audio 6 per prenotare un webinar one to one con i prodotti specialist audio 6 che possano di 45 minuti che possono darvi tutte le nozioni che voi assolutamente richiedete rapporto 11 quindi avete dedicato per 45 minuti solo a voi un prodotti specialist che può darvi tutte le informazioni sia per le luci sia per il settore audio sia per il settore video quindi sfruttate l'occasione di questa iniziativa dei webinar one to one contattati i nostri agenti di zona per prenotare appunto una sessione con noi se non ci sono altre domande chiedo la regia se ci sono altre domande direi che non ci sono forse sì forse no ok perfetto abbiamo finito le domande speriamo di essere stati abbastanza esaustivi di aver eh soddisfatto un po' la vostra curiosità eh venite a trovarci quando magari eh si potrà in tempi migliori in showroom audio 6 andiamo insieme a trovare se vi può far piacere eh che i pacchi con la loro nuova showroom eh fatta fresca fresca eh appunto con i nuovi prodotti noi vi salutiamo e vi ringraziamo e vi ci diamo appuntamento eh con le nostre eh prossime occasioni di formazione tenete d'occhio il sito eh audio 6 nella sezione formazione per vedere tutti i corsi tutti i webinar eh che eh proponiamo tutti i nostri clienti e vi auguriamo sicuramente una buona giornata e un buon lavoro a presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti